La bella Valentina Ferragni, sorella della nota fashion blogger Chiara Ferragni ha ricevuto, nelle ultime ore tanti commenti negativi Il motivo? Pare che i suoi fan la riconoscano più. Qualche cambiamenti artificiale? Chiara Ferragni è sicuramente tra le sorelle quella più nota, ma nel suo piccolo anche Valentina Ferragni si sta facendo conoscere pian piano La bella modella è molto attiva sui social, e spesso pubblica foto, forse con una frequenta un pochino minore di quella della sorella Valentina Ferragni, la sorella di Chiara distrutta sui social.È chiaro che il gene delle Ferragni è davvero fortunato La bella Chiara può vantare una sorellina davvero molto bella, Valentina Ferragni è quella che le somiglia di più Nelle ultime ore però la ragazza è stata letteralmente massacrata per via di una foto in cui appare diversa dalla solito Valentina è sempre molto bella, ma pare che nell'ultimo scatto abbia qualcosa di diverso Zigomi? C'è qualcuno che sottolinea che non li ha mai avuti così gonfi e c'è anche chi ritiene, invece, che abbia fatto qualche intervento agli occhi Chiara, la sorella demolita sui social.Anche a Chiara Ferragni capita spesso di venir letteralmente sommersa dai commenti negativi, questa volta, invece, è capitato a lei La sorellina minore non ha fatto altro che condividere con il web un semplice scatto Non ci sono nudi o cose sconvolgenti, solo lei che indossa un vestito da festa, in occasione della festa di Natale di casa Ferragnez . Una festa anticipata per far calare il piccolo leone nell'atmosfera sognante del Natale, e della sua magia Purtroppo però i commenti negativi del fan, hanno un po' rovinato la foto. Ma davvero Valentina è ricorsa alla chirurgia? Ma anche se fosse, probabilmente questo non è un motivo per distruggere una ragazza Bella prima come dopo, quindi non possiamo che dire alla bella vale di fregarsene delle critiche e continuare a postare tutte le foto che vuole .